In questo momento qui il Torino si trova in ritiro in Austria. Bremer ha già salutato i compagni e lasciato il ritiro del Torino. Per un motivo, la Juventus ha alzato l'offerta per Bremer e siamo arrivati a un punto, mi viene a dire, di non ritorno. Di non ritorno, perché l'offerta complessiva della Juventus dovrebbe essere di circa 47 milioni di euro per la cessione di Bremer, per il cartellino di Bremer. Sono andato a googlare, per curiosità, le top cessioni della storia del Torino. Ve le voglio dire perché stiamo parlando di quasi 50 milioni di euro. Al primo posto il Torino a Zappacosta con 25, al secondo Nicola Maximovic con 21, al terzo, Ciro Immobile con 18 e mezzo, Darvian con 18, Nian con 15, Ocubana con 15. Insomma, per farvi capire, questo è il colpo migliore della storia per il Torino in uscita. Quasi 50 milioni di euro il Torino ne aveva mai presi. Praticamente per raggiungere la cifra dobbiamo mettere insieme i primi due colpi come eccessioni della storia del Toro per raggiungere quella cifra lì. Ora, parliamone un attimo perché è una cifra comprensiva di parte fissa e bonus. È tanto? È poco? Qua sono tutte opinioni e considerazioni personali. Per me è tanto. Per me, per quello che mi riguarda, ma la mia opinione vale meno di zero dato che io non lavoro per la Juventus, io parlo di Juventus, sono due cose differenti. Come per me, 70 più 10 per Delete erano pochi. Poi il mercato ha le sue vie, il mercato crea i prezzi e quindi sono sempre tutti giusti i prezzi del mercato. Noi possiamo soltanto immaginare e dare una valutazione nostra ai calciatori sperando che possa essere poi riconducibile a quella che è la valutazione del mercato. Per me Bremer era un giocatore da prendere intorno ai 40 milioni di euro e Delete un giocatore da cedere intorno ai 90. La Juventus ha avuto valutazioni differenti sui giocatori, sempre in base al mercato. Per Delete perché il Bayern Monaco aveva catturato, stregato il ragazzo e quindi si è parlato anche probabilmente di meno soldi del previsto e con Bremer perché c'era da superare un'offerta dell'Inter e questo continuo voler inserire da parte dell'Inter questo calciatore Casadei che non ha mai giocato in Serie a cercando di valutarlo un po' di più. Poi ovviamente l'offerta della Juventus era troppo più elevata, era troppo più alta e quindi Bremer stesso era anche entusiasta della Juventus, ma ne avevamo parlato nel video di oggi e la Juventus in questo momento, ragazzi lasciatevelo dire, ha compiuto un piccolo capolavoro di calcio mercato perché dal niente la Juventus si è ritrovata in una posizione di svantaggio. So che tanti la vedono come una mancanza di programmazione, la Juventus su Bremer, la Juventus che prende Bremer secondo me non è così, la programmazione della Juventus era chiara, De Ligt rimane in rosa nella Juve De Ligt sarà ancora un calciatore della Juventus e anzi gli rinnoviamo il contratto per far sì che sarà ancora un calciatore della Juventus l'anno prossimo De Ligt non vuole più rinnovare il contratto, un imprevisto come al Monopoli e allora che cosa fai? E allora devi muoverti di conseguenza cercando di incastrare qualcos'altro in chiave mercato e il primo nome sulla lista era Koulibaly, andato via pure lui e allora se ti ritrovi in una doppia situazione di emergenza con De Ligt che se ne vuole andare e con Koulibaly che va da un'altra parte, devi individuare per forza di cose un altro nome sulla lista dei candidati e quel nome è quello di Bremer e quindi fai l'offerta, rubi la preferenza al calciatore e convince anche il Torino e quindi il giocatore viaggerà verso Torino tornando a casa dove ha già vissuto per tanti anni città che conosce magnificamente bene ma cambierà sponda, cambierà squadra, cambierà fede passando dal Granata al Bianconero pronto per ripartire poi per un altro ritiro, questa volta appunto Bianconero alla volta degli USA dove la Juventus inizierà il suo primo ciclo di amichevoli e allora ci si è riusciti, ci si è riusciti e da una situazione di emergenza si è capovolto tutto e se vogliamo delle due mi sembra più una mancanza di programmazione quella dell'Inter che per tanto tempo ha avuto in Bremer e Dybala i due obiettivi principali e in 48 ore si è vista sfumare tutto quello che era riuscito a crearsi in qualche mese poi su Dybala la storia la conosciamo tutti, è un po' più particolare, l'Inter poteva affondare, non l'ha voluto fare su Bremer credo proprio che l'Inter stia rosicando, che i tifosi dell'Inter stiano rosicando perché erano praticamente certi di inserire un giocatore che secondo me è perfetto per quello che ci ha fatto vedere, quello che ci ha mostrato per il gioco dell'Inter per lo schieramento tattico dell'Inter si inseriva alla perfezione poi è ovvio anche lì doveva essere adattato al centro-destra come era stato fatto con Skriner ma stesso Skriner ragazzi sembrava impossibile di inserire una difesa 3 sembrava necessario di uno schierare una difesa 4 ed è diventato il braccio di destra della difesa 3 prima di Conte e poi di Inzaghi e ha vinto pure uno scudetto con l'Inter in quella posizione quindi con un po' di lavoro sicuramente anche i calciatori possono essere modellati a seconda delle esigenze io sono convinto per caratteristiche Bremer sia perfetto per essere al fianco di Bonucci Bonucci è un giocatore che ama più gestire il pallone, avviare l'azione Bremer invece è un difensore, vero e proprio, nel vero senso del termine bisognerà soltanto capire come si adeguerà Bremer al modo di difendere della Juventus ma questo lo vedremo, sarà una cosa sulla quale dovranno lavorare Massimiliano Allegri e il suo staff nelle prime ore a disposizione insieme a Bremer difensore centrale che sta per diventare il nuovo acquisto della Juventus il terzo, il quarto, scegliete voi, dipende come andate a classificare Cambiaso ufficialmente sì, potrebbe essere il quarto di questa campagna estiva Juventina ma il terzo nuovo innesto vero e proprio per la prima squadra poi ovviamente ci sono da considerare i rientri per dire di Rovelle e Fagioli c'è da considerare Miretti, c'è da considerare Sule che sono giocatori che verranno aggregati ma sono tutti discorsi a parte ma il quarto acquisto ufficiale di questa campagna acquisti sarà molto presto e molto probabilmente Bremer mi immagino già domani visita medica alla Continassa nella giornata di mercoledì perché poi giovedì si vola in America dove Bremer farà parte della spedizione bianconera ultimo per concludere, so che a tanti non importa quindi l'ho lasciata all'ultima parte il numero perché Bremer ha vestito la maglia numero 3 al Torino maglia che, guarda caso le coincidenze della vita proprio quest'anno si è liberata dopo 18 anni di permanenza sulle spalle di Giorgio Chiellini e quindi Bremer andrà a prendere il numero 3 lasciato libero a Chiellini o il numero 4 lasciato libero ad Elite si vociferà anche che Gatti possa scegliere il numero 15 andando a ricalcare un po' le orme di Barzaglione nazionale e quindi avremo a disposizione un nuovo Barzagli, un nuovo Chiellini e uno degli ultimi Bonucci in carriera da qui si potrebbe poi aprire la strada a una nuova difesa 3? me l'avete chiesto in tanti io credo di no credo anche che sia necessario ripartire da 4-3 e poi vediamo se saranno due ali o un trequartista anche perché bisogna capire quelli che saranno i giocatori a disposizione di Allegri tra questi non ci sarà Marco Piazza che se vogliamo ufficialmente è l'unica alla sinistra vera e propria che ha la Juve in questo momento perché è molto vicino alla Sampdoria trasferimento a titolo definitivo gratuito perché Piazza è in scadenza l'anno prossimo quindi non avremo più questo girare per la Serie A per Marco Piazza che finalmente trova una collocazione definitiva in bocca al lupo a un ragazzo sfortunatissimo un acquisto che speravo potesse essere decisamente meglio per la Juventus tagliamo ulteriormente quel cordone umbilicale che ci lega a quel calciomercato che ci ha poi portato a Cardiff Pogba c'è e all'epoca era andato Quadrado c'è ancora e sono le uniche due cose che ci legano ancora lì l'ultima cosa che mi piacerebbe avere in comune è un mercato di qualità e quantità esattamente come in quella sessione e ovviamente poi un finale diverso per quanto riguarda un'eventuale finale di UEFA Champions League ma per il momento concentriamoci su completare una rosa che in questo momento è abbastanza indietro per quanto mi riguarda abbiamo parlato delle cifre abbiamo parlato del numero di maglia abbiamo parlato dell'arrivo di Bremer che saluta i compagni e lascia il ritiro del toro e siamo pronti ad abbracciarlo come nuovo calciatore della Juventus siete contenti per questa operazione? io devo dire la verità ci credevo poco domenica sera ero molto negativo ero nero, ero pessimista perché ho detto ai 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 credo ancora che sia necessario qualcosa di più tradotto Bremer non risolve completamente i problemi della Juventus ma è un gran punto di partenza pagato un po' troppo? per me sì ma ribadisco le regole le fa il mercato grazie a tutti grazie a tutti